Oggi ci troviamo alla Clivet di Villa Pajera, storica azienda operante nel settore della climatizzazione. L'occasione speciale è stata il Clivet Green Day, momento in cui è andato in scena la premiazione di un apposito concorso per installatori di tutta Italia, ma poi anche per la formazione sul tema delle pompe di calore in ambito residenziale. Clivet da sempre nel suo DNA ha questo appunto, il tema Green è sempre stato, Clivet è sempre stata un'azienda avanti nello studio, nella progettazione delle pompe di calore, è anche uno dei primi a proporle e sta continuando in questa direzione, soprattutto adesso con la transizione energetica. Il concorso era un concorso rivolto agli installatori italiani ed era un concorso ovviamente rivolto a chi avrebbe dato le migliori performance dell'anno scorso. Il primo premio era una Fiat 500 elettrica. Quale quindi il cuore del messaggio che è emerso comunque da questo convegno? La ricerca soprattutto degli elementi tecnologici innovativi che la Clivet penso porti avanti anche in questo campo, consente sempre di avere un'evoluzione dell'approccio alla progettazione degli edifici, cercando di ottimizzare le risorse nel contenimento energetico e nell'ottenimento del miglior clima possibile nell'ambito dell'edificio. Negli ultimi anni la cosiddetta transizione energetica verso l'utilizzo delle energie rinnovabili ha dato una spinta molto forte all'utilizzo delle pompe di calore. Una realtà che guarda nuovi spocchi e anche nuove sedi. Certamente, stiamo ampliando, inaugureremo adesso a maggio il nuovo European Hub Center a Milano e sarà un punto di riferimento soprattutto come area commerciale per i colleghi dell'area commerciale, ma anche per tutta la parte di training, post vendita e R&D. Quindi la parte di ricerca e sviluppo avrà una sede anche là. Grazie a tutti.